Don Francesco era nato il 21 maggio 1946 a Nocera Umbra e era stato ordinato presbitero nel 1972. Da circa dieci anni era vice parroco nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Bastia Umbra. Il vescovo diocesano, monsignor Domenico Sorrentino, il consiglio episcopale, il consiglio presbiteriale e tutta la comunità sono raccolti in preghiera e partecipano al dolore della famiglia. La messa esequiale riservata a familiari e a pochi sacerdoti è stata celebrata dal padre vescovo martedì 23 marzo nella chiesa del cimitero di Santa Maria degli Angeli.